Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali, naturalmente 7.30 tutte le mattine, vi apriamo una finestra sui quotidiani, sulle notizie principali che troverete poi all'interno dei giornali una volta che andate in edicola a comprarli. Naturalmente, come sempre, faremo una panoramica sul tempo delle prossime 48 ore, ma anche vediamo che cos'è oggi che si festeggia il Santo del Giorno, e naturalmente l'Almanacco, Santa Faustina di Cizzico, il Santo di oggi, sabato 10 giugno, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.50. Vediamo le previsioni del tempo, di Dascalier molto scarne perché c'è poco da dire, come vedete il cielo è sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura, nessuna precipitazione, le temperature sono in aumento e i venti sono in regime di brezza. Domenica più o meno la stessa cosa, come vedete, anche la cartina molto scarna nelle didascalie, sereno o poco nuvoloso, per cumuli di bel tempo, nessuna precipitazione e anche qui in questo caso le temperature sono in aumento, venti in regime di brezza e poi lunedì più o meno copie carbone, insomma, per il primo giorno della settimana, sereno o poco nuvoloso, nessuna precipitazione e temperature in lieve aumento. Quindi come vedete due giorni, un fine settimana e un inizio di settimana all'insegna del bel tempo e insomma pare che, almeno questo ci dicono gli esperti della protezione civile delle marche, che anche il resto della settimana prossima sarà all'insegna della stabilità e del bel tempo. Bene, andiamo nei giornali, guardiamo l'apertura dell'inserto pesarese del resto del Carlino, in prima pagina, prima notizia è lo yacht di Valentino, Valentino Rossi e i lavori al Porto, poi si parla dell'iniziativa mirata ai bambini, mezzanotte bianca, piazza piena di bambini per l'avvio, controlli consistenti ma discreti, stangati gli scooter, multe a raffica e poi dragaggio del Porto, tra turisti a Cattolica e Cattolica ha sbagliato, ma meglio farlo che non farlo, e poi salvato in pista col defibrillatore a Gradara, miracolato per, grazie a un defibrillatore, stava ballando e c'è stato un incidente cardiovascolare mentre ballava, è stato salvato, è riattivato, è ripartito la circolazione e il cuore con il defibrillatore che era proprio lì vicino. Allora vediamo il resto delle pagine, eccola qua l'articolo che riguarda questa iniziativa che ha riempito la piazza per quanto riguarda i più piccoli, controlli, sicurezza, vedete, folla i controlli, la mezzanotte va, domani si bissa, no agli abusivi in piazza, ha allontanato un venditore di balloncini, avete visto lì nel riquadro, che non aveva l'autorizzazione. Ancora agenti dei carabinieri forestali in azione perché hanno scoperto una discarica ferrosa, un rigatiere nei guai, blitz della forestale, aguato con sequestro in strada, borgheria. Ancora nelle pagine del resto del carino però andiamo in quelle che riguardano Fano e le vacanze e aspetti delle vacanze importantissimi perché insomma non tutti riescono ad accedere all'arenile o all'acqua per chiaramente una disabilità che li affligge. E allora, bagnini in azione, disabilità il mare per tutti, è un sogno possibile, in spiaggia con carrozzelle speciali che vedete appunto qui nella foto per fare il bagno. Sono pronti Mauro Mandolini e i suoi collaboratori, il titolare di Bagni Torrete, che ha aderito a questa iniziativa. Vedete che bella carrozzina, sembra una sedia appunto di quelle da prendere il sole sotto il mare, però attrezzata proprio per loro, per chi ha problemi di mobilità e adatta per andare sulla spiaggia. Quindi insomma complimenti per l'iniziativa. Però un altro aspetto, un'altra pagina poco edificante dell'estate, non è legata al turismo e al mare, ma purtroppo agli animali. Ecco, vedete qui nell'articolo si parla della piaga, degli abbandoni degli animali, di cani e amici fedeli per tutto l'anno, poi i padroni si disfrono di cani ormai vecchi e malati. C'è il picco nel periodo estivo e le volontarie di Melampo lanciano di nuovo l'allarme, che come ogni anno puntuale, come la Cambiare, si presenta, questa tragedia, questo flagello, anche nonostante le campagne di sensibilizzazione che vengono fatte nei network nazionali, con spot. Insomma, però, ahimè, è così. Andiamo nel Corriere Adriatico, guardiamo come apre l'inserto dedicato alla provincia di Pesero, fotonotizia centrale anche qui per mezzanotte dei bambini, anima il cuore della città. Poi si parla di sosta liberalizzata in una zona che anche questa d'estate diventa presa d'assalto dai mezzi per accedere poi al mare per quelli che vanno alle spiagge, parliamo della zona di Sottomonte. Poi si parla di Gabellini, padron del Fano, che scioglierà la riserva su tenere o no la squadra, e poi la protesta dei vongolai al porto di Fano. Vediamo la notizia del parcheggio Sottomonte, anche questo un problema che ogni anno affligge questa zona, sosta autorizzata a Sottomonte e navette in servizio. Deroga al divieto, ora nel weekend e poi tutti i giorni nel tratto urbano dell'Adriatica. Tre parcheggi disponibili per i bagnanti, ma però resta l'emergenza di un'altra sezione di questa strada importante, che è quella di Fosso Segliore, che comunque rimane nell'emergenza. Vedete qui nel riquadro tutte le peculiarità di questo intervento. Ancora nella pagina che riguarda Pesaro si parla di cultura, cultura che ora paga con l'arrivo dei fondi per la regione, una lunga lista di finanziamenti per infrastrutture ed esposizioni. Da Pesaro andiamo a Urbino per darvi un aggiornamento sulla vicenda del bambino morto per l'Otite, perché ci sono degli sviluppi, eccoli qua, incaricati altri due periti. La procura disigna un ottorino ed un esperto di omeopatia per fare chiarezza sulla tragedia e su che cosa è successo e quali sono le cause che hanno portato a questo triste epilogo del bambino di Francesco, insomma il bambino di Cagli, di sei anni e mezzo. Andiamo a Urbino con le pagine del Corriere Adriatico, Santa Croce Salvo, Nuova Strada e anche la Clinica Seri, è un Seri pigliatutto e presenta un ordine del giorno in consiglio per strappare questo patto a Ceriscioli e quindi Seri porta in consiglio le sue richieste. Poi, caso sicurezza Minniti a Fano e il ministro dell'interno Marco Finniti verrà a Fano per un confronto con i sindaci delle Marche sul decreto sicurezza e immigrazione. L'appuntamento è per giovedì 22 giugno. Siamo ancora nelle pagine di Fano, come vi ho annunciato nell'apertura dell'inserto, si parla di problemi legati al porto e alla marineria, naturalmente agli operatori ittici, non solo ma tutta la marineria fanese vive sotto scacco di questo problema. al porto sirene di rabbia, i vongolai al rientro suonano le sirene all'unisono per attirare l'attenzione, ma c'è tanta rabbia e tanto dolore. Giardini dice venga Ceriscioli qui a vedere l'agonia di questo porto. L'ultimo intervento con una draga importante, una sorbona, come ci hanno detto i marinai, così chiamarsi, è stato fatto nel 1994, pensate, tanto tempo fa, gli interventi con le draghe a sprazzo non fanno un granché perché mettono soltanto al riparo da qualche buca, poi arriva il mare di Levante e tutto ritorna come prima. È rimasto solo un corridoio centrale per la navigazione, con alti rischi che possono far morire questo settore importante per l'economia cittadina. Poi si parla in piedi pagina anche del ballo nella zona della Zilla, al baretto si balla, lo chalet però attende il dissequestro. Diverse sono le indicazioni per l'ordine pubblico, si è pensato anche appunto a una zona indetta al traffico nei giorni che verranno destinati al ballo all'intrattenimento per evitare appunto che in caso di pericolo biciclette, motorini e automobili lì nel sottoferrovia impediscono ai mezzi di soccorso di raggiungere chi ne necessita. Andiamo nella pagina della Val Cesano, lungomare fruibile a tutti, una rivoluzione per Marotta, vedete qui l'attivissimo sindaco Nicola Barbieri, il sindaco esalta il programma dei lavori che prevede anche nuovi parcheggi. Vedete qui in questo reading come potrebbe venire questa zona, una zona del lungomare di Marotta. Andiamo a Senigallia, rimborsi, parliamo di rimborsi perché sapete che diverso tempo fa c'è stata un'alluvione che ha praticamente messo sotto acqua tantissimi garage, tantissime abitazioni a Senigallia a momenti di panico, ve li abbiamo documentati anche noi con i nostri notiziari e dopo tanto tempo arrivano i rimborsi, ma questi rimborsi sono bloccati, bloccati perché vediamo nell'articolo le banche prendono tempo e il sindaco dice potete cambiare anche l'istituto a tre anni dall'alluvione arrivati 760 finanziamenti su 996 richiesti e cresce la rabbia di chi è in attesa. I ritardi riguardano anche gli sportelli che hanno aderito all'accordo con il comune. Noi, dice il sindaco Mangialardi, abbiamo messo tutto l'impegno ma ora più di così non possiamo fare, la burocrazia è veramente un ostacolo insormontabile alle volte. Chiudiamo, l'ultima pagina che vi faccio vedere, chiudiamo con lo sport, si parla di calcio, di fano, per i turisti c'era il lancio nella pagina di apertura, ancora qualche ora di apprensione e poi si saprà se patron Gabellini scioglierà la riserva per tenere o lasciare il fano dopo averlo portato alla salvezza. Lunedì o martedì la risposta, quindi comunicherà, se lascerà davvero la guida del fano come aveva annunciato in una conferenza stampa abbastanza tumultuosa in questo inverno. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, queste erano le notizie principali che troverete nei giornali in edicolo e naturalmente il mio augurio è di un buon fine settimana visto che il tempo ce lo permette. Alla settimana prossima! Grazie! Grazie!